Abbiamo in campo un progetto, si parla di cuore, proprio perché i dati che ci arrivano dal Ministero della Salute sono piuttosto preoccupanti, perché parlano di un aumento notevole delle patologie cardiovascolari nelle donne. E noi, come Soroptimist di Fano, abbiamo già messo in campo una prima conferenza alla Mediateca Montanari con il cardiologo dottor Rocchi, la dottoressa Maria Cleofe Contardi, e proseguiamo con questa camminata, proprio per coinvolgere un pubblico sempre più vasto, informarlo anche sui metodi di prevenzione. La camminata si svolgerà in piazza, partiremo, punto di ritrovo, arrivo, partenza in piazza, alle ore 10 di domenica mattina. Possono partecipare tutti, perché sarà una tranquilla passeggiata di 5 km, tra le vie del centro e la zona mare. Ci aspettiamo l'intervento di donne e uomini che vogliamo informare, tanto che daremo anche del materiale ad hoc, ci sarà una brochure messa a punto da degli specialisti, dei medici specialisti, e speriamo di poter trovare l'interesse di queste persone, e di poter comunicare l'importanza di avere un corretto stile di vita, perché questo riduce enormemente i rischi di patologie cardiovascolari. Come si fa a partecipare? Si viene direttamente lì in piazza, oppure magari uno può consultare un punto dove acquisire informazioni? Noi abbiamo il nostro sito Facebook del Soroptimist Club di Fano, dove ci sono già tutta una serie di informazioni.